Nella prassi, nelle istituzioni parlamentari, il Presidente Lupi mi confermerà, c'è la distinzione tra maggioranza e opposizione, che non è una distinzione filosofica, ma dipende dal fatto, ho votato a favore della fiducia al governo, sono maggioranza, ho votato contro la fiducia al governo, sono opposizione, a prescindere dal dato elettorale. Da questo punto di vista, istituzionalmente parlando, noi siamo in opposizione e voi siete in maggioranza, quindi l'alleanza è finita, è finita qua, non è finita sui territori, là dove si governa continueremo lealmente a governare insieme, perché noi siamo persone serie, siamo un partito serio. Il futuro, io mi chiedo, adesso l'emergenza è quella economica, non sappiamo che cosa porterà Monti, se porterà cose sostenibili oppure no, se cadrà su questi provvedimenti perché non troverà una maggioranza, si è sentito patrimoniale no, pensioni no, non so chi voterà alla fine. Mi pare francamente fuori luogo, fuori tempo, adesso inutile parlare di che cosa succederà a maggio del 2012 quando si voterà nei comuni, importanti ma sono comuni, ne parleremo quando sarà il momento, io adesso non posso dire certamente sì o certamente no, dipenderà da quello che succede da oggi, da domani fino a quando sarà il momento. Scusi, voglio precisare che già quando eravamo in questi anni, essendo noi maggioranza forte, ci sono stati dei comuni delle elezioni amministrative dove la Lega si è presentata da sola e il PDL si è presentato da solo.